Buongiorno amici, è ora del MoraFast. Noi siamo uccisi, noi tipo io e voi, ma facciamo così e così. E io mangio di più. Io oggi, non lo so, sono un po' sfasata. La vita di dormire in un letto dopo 9 giorni non mi è piaciuto. E' ora di tornare a casa, siamo appena partiti e inizia l'avventura del nostro super viaggio di ritorno, col mio amore che sta malissimo. Io che sono in super forma come pochi, ma ce la faremo. Come dice il nostro amico pazzo, avanti tutta! Sempre! Ciao! 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 Grazie a tutti Amici, a metà strada per il ritorno a casa abbiamo visto un laghetto fantastico e mi sembrava giusto andarlo ad esplorare con voi Ragazzi è fantastico questo laghetto in mezzo alle Alpi, in mezzo al... Alla natura L'acqua è limpidissima, è fantastica, è azzurrissima, puoi farti grigliate, prendere il sole, fare il bagno... C'è anche la scuola di tavola, come si chiama? Tavola da surf ma da... Tavola da surf da lago E' veramente bello, sono proprio contenta di esserci fermati qui E' un po' difficile la salita, però il panorama ci ha ripagati Merita 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 E' assolutamente venire a trascorrere qualche giorno su questo laghetto perché è spaziale, è gigante ed è bellissimo! Bellissimo Bellissimo! Stiamo facendo su e giù dalle Alpi come se non ci fosse un domani E salutiamo i passanti! C'è gente che si allena con le bici su queste salite Non so come faccia a non esserci un'ambulanza nelle vicinanze perché la nostra macchina fa fatica Ciao Ciao Guarda che alti Siamo altissimi Avanti tutta Sempre Siamo arrivati a casa ma prima andiamo a prendere i nostri pelosini! Sìyyyyy Duncan non si è comportato proprio bene Grazie Sì Come si dice L'abbabbassolato sotto il sole L'abbassolato sotto il sole del deserto per otto giorni Sen'è andato, l'alternatore si è staccata tutta la tappezzeria di sopra ed è appena morto anche lo stereo che festa ma comunque avanti tutta sempre siamo un po' sfigati ma vabbè vorrei dire che canterò io no grazie non ci posso credere si è indemoniata ha preso lo stereo ha cominciato a sbatterlo come un forse nato e si è acceso facciamo la prova del 9 in diretta con voi FM e funziona grazie la tecnologia va presa col pugno col pugno duro dovete sapere che da quando l'ho conosciuto lui prende a pulire le cose tecnologiche e la fatalità funziona sono come fonti si almeno una cosa funziona chi ti 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 ¶ Oh, bello mi davo! Mi si sta? Oh, non è bello! Allora, guarda che stanno per niente!